Ciao a tutti, sono svegliata circa un'oretta fa, ecco, vabbè, salgo gli occhiali e anche questo becco di cicogna. Sì, io porto gli occhiali da riposo, solo quando guardo la tv, magari leggo un libro o magari sto al computer e devo portarli. Comunque, ho già qualcosa di nuovo. Cosa? Notate qualcosa di diverso? A parte i capelli ondulati, vabbè. Sì, allora, questo piercing è finito. Questo invece è vero, dato che avrei una mezza intenzione di farne un altro dalla nostra parte del naso, dalla parte sinistra, perché io ce l'ho a better, il piercing è vero. Non so, volevo osservarmi meglio per vedere come potrei stare, come un altro piercing, non lo so. Non ho idea. , come un altro piercing. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti